Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina! Allora, questo è il video che vi avevo promesso sul cischetto, quindi il primo video ricetta che faccio e siccome ho ricevuto tantissime richieste di avere questa ricetta e di vedere appunto come faccio questo dolce e siccome devo appunto farlo per questa sera, ho deciso di registrare e ora vi do tutti gli ingredienti e poi iniziamo a preparare il tutto non so come verrà questo video perché appunto è il primo che faccio non guardate perché sono in tenuta casalunga e adesso vi do appunto gli ingredienti Allora ragazzi, vi dico gli ingredienti ci servono 200 grammi di biscotti secchi, io utilizzerò questi di Oro Saiva poi ci serviranno un paio di cucchiai di zucchero per la base, utilizzerò il fruttosio che preferisco due cucchiai di zucchero per la base e poi ce ne servono altri 150 grammi per la crema sempre per la base ci servono 150 grammi di burro che io ho già preparato poi ci serviranno 200 grammi di panna fresca io utilizzo questa delle latterie vicentine e 200 grammi di roviola, io ne ho di due tipi 100 grammi del succo di limone, meglio se l'avete fresco io utilizzerò questo perché non ho a disposizione dei limoni una marmellata scelta, io questa volta la farò con la ciliesia, l'altra volta l'ho fatto con i frutti di bosco ci servono tre uova medie oppure quattro di queste qua fresche farina per dolci e ce ne servono due cucchiai e una bustina di vanillina bene iniziamo con il procedimento, vi dico subito che sporcherete un po' di coline però voglio dire che dobbiamo fare dolce allora preparo già il forno a 160 gradi rivestiamo una tortiera, la base della tortiera con della carta da forno io utilizzo questa che si apre perché mi è più comoda e la mettiamo da una parte ora iniziamo a frantumare i biscotti lo potete fare anche a mano, a me piace farmi diventare una polverina dimenticavo, finché frantumiamo i biscotti metto a sciogliere in microonde il burro lo sciolgo piano piano perché non voglio che si bruci bene, prendo i biscotti e li metto qui nella base di biscotto metto il burro fuso e mescolo bene e metto due cucchiai di fruttosio riprendo la mia tortiera e metto dentro il composto lo distribuisco bene dopo essermi lavata le mani schiaccio bene il composto per renderlo il più uniforme possibile bene, ora prendo la base e la metto in frigorifero bene, ora dobbiamo montare gli albumi a neve e dividerli dai tuorli vi farò vedere il mio metodo superificato avete bisogno di una bottiglietta schiaccio per creare sotto vuoto lascio e mi tolgo il mio albumi il mio tuorlo, eccolo lì lo vedete, lo vedete, eccolo lì basta in mira bene, ora abbiamo albume, albume, il tuorla e ora montiamo a neve i nostri albumi bene, i nostri albumi sono montati li mettiamo da una parte ora montiamo la panna ci scusiamo per l'interruzione ma la signorina è andata a prendere la panna perché prima si inizia a fare dolce poi si guarda se ci sono tutti gli ingredienti ciao bene, se durante l'esecuzione del vostro dolce vi accorgetti che la vostra panna anche se a scadenza 21 luglio e oggi ne abbiamo solamente 18 è scaduta correte così come siete al supermercato e ne andate a comprare un'altra bene, mettete da parte anche la panna mescoliamo i tuorli e lo zucchero i 150 g di zucchero aggiungiamo la roviola aggiungiamo la panna il succo di limone se voi utilizzate il limone fresco e il succo di mezzo limone 2 cucchiai di farina e la vanillina e ora aggiungiamo gli alzini prendiamo la nostra base e versiamo dentro il composto bene, ora mettiamo tutto in forno per 50-60 minuti a 160 gradi con il forno ventilato se ce l'avete io lo metto di solito ventilato per il primo quarto d'ora e poi per il resto del tempo forno normale comunque vedete quando è pronto perché sentite anche il profumino allora intanto in una pentola finché si sta appunto coccendo la torta mettiamo mezzo vasetto di marmellata io ho scelto appunto questa qua alla ciliegia con un po' d'acqua a sciogliere poi quando la torta si sarà raffreddata gliela versiamo sopra ecco qua questa è appunto la marmellata metto un po' d'acqua e a fuoco basso la faccio sciogliere mescolando guardate queste gelieze bene questo lo spengo e lo lascio lì è buona la torta della mamma ciao la torta della mamma la torta della mamma chi è che mangia la torta della mamma? chi è che mangia la torta della mamma? come ti chiami? Alessandro chi è questo? chi è questo? il tuo amico super mario super mario brosk super mario brosk mamma eh? papà o dici mamma o dici papà chi vuoi? mamma mamma chi? papà papà vuoi? o la mamma? e chi vuoi? ci stai pensando? chi è che vuoi? eh? mamma 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 è meglio la mamma mamma chi è che vuoi tu? chi è che vuoi tu? la mamma mamma non con quella manina lì fra quanto è pronto il dolce? dimmi no cosa stai facendo? no la forza di darti baci e la mamma sono venuta le due Dio che caldo ma eh ma mamma 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 allora quando il dolce è più o meno così io passo al forno normale spandere bene su tutta la superficie mamma mamma poi per un risultato migliore bisogna guardare la torta e sorridere amore c'è la luce? non c'è la luce? eh ma c'è la luce va che se vede qualcosa non c'è la luce molto bene adesso appena si è raffreddato lo mettiamo in frigo per 3-4 ore ecco ragazze la torta è pronta se qualcuna di voi la fa tagatemi in una foto su Instagram oppure mettetemela nella pagina Facebook tutti i link nell'info ciao 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 Grazie a tutti.